Mister Erra, il sogno continua? Sì, continua. Ennesima prestazione sopra le righe contro un'ottima squadra, quindi complimenti ai miei giocatori che hanno giocato una buona partita contro un'ottima formazione, che ci hanno messo in difficoltà però penso che ci abbiamo messo la determinazione in più di chi ha fatto sì che possiamo giocarci questa finale. Ovviamente nel secondo tempo, 5 minuti, la Gelbison ha realizzato i due rigori netti ovviamente ma è costata anche l'espulsione a D'Angelo, quindi da quel momento per il cittadino di Messina è veramente diventata difficile poi. Sì, è una gara anche particolare, visto che loro sono una squadra molto giovane, una squadra assai qualitativa dal centro campo in su il fatto di poter soffrire su due risultati poteva crearci qualche difficoltà a livello psicologico però mi sembra che dall'inizio siamo partiti molto aggressivi e abbiamo giocato senza pensare al risultato.